Mi chiamo Anna Giulia Canesso e attualmente sono assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Padova in Italia. Qui mi sono sia laureata con una tesi magistrale dedicata al concetto di parresia nell'opera di Michel Foucault e poi ho conseguito il mio dottorato di ricerca in filosofia politica con una tesi dedicata al rapporto tra sapere e vita nell'opera di Georges Conguilhem. Nel 2020 sono stata anche borsista di ricerca presso l'Istituto Italiano degli Studi Filosofici di Napoli dove ho proseguito il progetto che è emerso poi dalla mia tesi di dottorato e al momento le mie ricerche che conduco all'Università di Padova si concentrano soprattutto sulla relazione di Conguilhem con la tradizione sociologica francese in un tentativo di rileggere in qualche modo la sua peculiare appartenenza a questa tradizione, soprattutto attraverso la rielaborazione di alcuni concetti fondamentali, per esempio il concetto di norma, di normale e di patologico che Conguilhem riprende da un certo dibattito interno alla tradizione sociologica francese ma a cui imprime una torsione molto peculiare. Allo stesso tempo l'obiettivo sarebbe quello di provare a istituire attraverso il pensiero conguilhemiano, un'interrogazione epistemologica dei concetti del sociale e della sociologia. Il mio approdo personale al pensiero di Georges Conguilhem arriva dallo studio di quello che forse si può definire come uno dei suoi allievi più celebri, cioè Michel Foucault. Lo studio di Foucault infatti mi ha a più riprese e messa davanti a un concetto come quello di vita che mi sembrava emergere dal lavoro di Foucault a più riprese e in maniera anche molto differente tra di loro. Quindi non solo con le famosissime ricerche dedicate alla biopolitica o per esempio con l'emersione del concetto di vita come correlato oggettuale di un nuovo sapere, eminentemente moderno, quindi il sapere biologico e quindi come quasi trascendentale dell'episteme politico e dell'episteme moderna, ma anche in maniera magari molto meno rigorosa, meno sistematica in una serie di altre occorrenze che mi sembravano particolarmente interessanti. Basti pensare ad esempio alla vita radicalmente altra che è incarnata nella forma di vita del bioscinico o ancora le vite infami degli internati. Ecco, allora complice anche il testo che Foucault ha dedicato a Con Guilhem dal titolo La vie, l'experience et la science. Ho ritrovato in Con Guilhem la possibilità di attuare un'interrogazione epistemologica del concetto scientifico di vita, come si emerge appunto a partire dal sapere biologico, che allo stesso tempo potesse sondarne la profondità storica, quindi la specifica consistenza che esso viene ad assumere, ma anche le sue trasformazioni concettuali, gli slittamenti e le proliferazioni di senso. E poi ancora ho trovato attraverso questo canale Foucaultiano possiamo dire, una riflessione come quella con Guilhemiana che pur non presentandosi mai come eminentemente politica, offre tuttavia la possibilità di tenere insieme l'interrogazione epistemologica dei concetti scientifici e allo stesso tempo la loro radicale problematizzazione. Basti pensare naturalmente ai concetti di normale, di patologico, per fare l'esempio più celebre, ma anche l'attenzione al problema delle storture, delle aberrazioni, degli errori, ancora sia vitali che concettuali, o ancora la radicale presa in carico dei rapporti tra la vita e il sapere che è possibile istituire di questa stessa vita, o ancora infine la cruciale questione della normatività, tanto nella sua dimensione vitale, quanto nella dimensione sociale. Sicuramente il lavoro svolto al Foncanguilhem del Cafès è stato un momento che ha costituito un grande momento di condensazione delle ricerche e che ha permesso di confrontarmi anche con la complessità di un pensiero in evoluzione, vederlo nella sua evoluzione e anche nel costante ritorno riflessivo su di sé, il che si è rivelato particolarmente prezioso. Personalmente ho cercato di approcciarmi alla forma archivio cercando di resistere un po' alla tentazione di farne una sorta di santuario, quindi a custodia del pensiero, in questo caso canghilemiano, e quindi di non studiarlo cercando di ritrovarmi una qualche verità nascosta del pensiero di canghilem in qualche modo più profonda rispetto a quella degli scritti pubblicati, quindi di non ricercare in questi testi inediti una parola segreta in grado di far luce sull'intero percorso canghilemiano e invece ho cercato di utilizzarlo come materiale di supporto, di integrazione e esplicitazione teorica di alcuni nodi concettuali, anche talvolta poco esplicitati nelle opere pubblicati, ma che vi operano comunque costantemente, che si ritrovano all'opera proprio in questo percorso di evoluzione e di ritorno riflessivo anche sul proprio lavoro che ho visto tramite gli inediti, l'accesso agli inediti. Fondamentali in questo senso per il lavoro che ho svolto sono stati soprattutto alcuni corsi che canghilem ha tenuto, gli insegnamenti che lui ha tenuto all'università, e in particolare per me le norme e le normales, che è un corso del 42 e del 43, ovviamente in particolare riferimento ai concetti di norma, di normale, di patologico, ho anche i corsi l'errore, il corso che lui tiene nel 43 e 44 e la stiamo se l'errore, quindi nel 55 e 56, in modo particolare mi hanno permesso di far luce su il ruolo vitale che l'errore assume nella costituzione della conoscenza scientifica. Il breve passaggio inedito che mi piacerebbe ricordare in questa occasione è tratto proprio da uno dei corsi che ho appena nominato, c'è il corso La science et l'errore del 1955-56 che canghilem tiene presso la Sockbon. E mi piace in particolare ricordarlo perché da un lato mi sembra che condensi tante delle questioni che credo siano fondamentali nel lavoro di canghilem. Prima di tutto ovviamente l'apertura di uno spazio di problematizzazione della verità senza mai tuttavia sottrarla al campo della conoscenza scientifica. Dall'altro lato l'importanza dell'errore nella costituzione di questa stessa conoscenza scientifica e la capacità tutta epistemologica, cioè propriamente filosofica, di riportarle, la verità e la conoscenza scientifica, alla loro specifica consistenza e costituzione storica. Dall'altro lato mi piace ricordarlo perché mi sembra che rappresenta in realtà la frase che conclude il corso, l'intero corso di canghilem, ma in realtà mi sembra che non sia propriamente una conclusione in senso proprio, cioè una risoluzione definitiva del problema specifico che canghilem si era ripromesso di affrontare durante l'anno accademico, ma che al contrario costituisca invece un'apertura, il segno di una problematizzazione ulteriore che mi pare anche molto fedele alla modalità canghilemiana di fare filosofia, quindi non di cercare soluzioni definitive, ma piuttosto di aprire continuamente nuovi campi di problematizzazione. Quindi il passaggio che vi leggo è questo. Tutti i corsi di questa settimana non avranno quindi a una domanda che a una domanda. Comment, senza separare la connaissance, la scienza e la verità, mettere la verità scientifica a sua place? Comment composare il vero con il contrario e non il contradicto, il faux? Comment justificare il faux con la creazione, senza per tanto introduire la falsificazione in l'altro, come legittimare, in l'etat civile filosofico, questo battard che la scienza ne nomi errore, che per potere la recusare e la regete?